Volevate? Speravate che ci fosse a caccia di tassi 2? Speravate? Lo spero anch'io! E invece no! E invece no! Non c'è niente! Non c'è niente! E' da un anno e mezzo che questa serie è bloccata! È bloccata! E voi? Ma perché non lo fate? Quando esce il nuovo caccia di tassi? Quando esce? Quando esce? Quando esce? Oh! Noi dobbiamo fare una cosa seria! Mica come Star Wars 9 che è stato fatto coi piedi! Noi siamo gente che lavora segnamente! Non pensiamo solo alle cose suonari e agli effetti speciali che... Sì figo! Se non l'hai mai visto! Star Wars è bellissimo! E invece no! Noi vogliamo la trama! E che cazzo! Vodo! Insomma tutto questo per dirvi una semplice cosa! Caccia di tassi per adesso non esce perché dobbiamo trovare tre situazioni, almeno tre situazioni positive! Una, dobbiamo essere le giuste persone! E troverà essere già... Io! Io! Tassi! E quindi fai adesso di te! Boh! Boh! Allora! Cioè poter... È fatta! Poi serve... Mancano! E non dire l'altra persona! Perché minimo queste è un'altra persona che potreste aver già visto da qualche parte ma non sul nostro canale da quello che ricordo! Lo vedrete insomma sarà... Apparirà! Ma... Non vi voglio far spoiler! Minimo queste quattro! Poi se ne ci sono altre... Poco meglio! Insomma ecco... Insomma vi stupirete ma Franzy non ci sarà nel prossimo video! Nelle caccia di tassi due! Qua c'è l'anima sua! Ciao Ricky! Ti vogliamo bene! No non ti vogliamo bene tranquillo! Sì o sì? Più o meno! Sì più o meno! Insomma ci serve... Fa quel che si può! In più... Per questa cosa ci serve almeno un giorno intero libero! Perché... L'ultima caccia di tassi! Perché durante la giornata ci possono venire ispirazioni che nel giro di qualche ora ti vengono solo se stai cagando in poche parole! Quindi abbiamo bisogno di un paio di defecate per capire al meglio cosa mettere nel giro! Poi dobbiamo anche preparare un po' la trama se non già... La trama! Sto agitando! Le situazioni, il luogo in cui farlo! Anche se quello sappiamo già abbastanza! Più o meno! Perché abbiamo... C'è ancora di una cosa! Improvvisare troppo i video viene una gran merda! Vieni una gran merda! Vedi questo? Ho improvvisato! Vedi? È peggio! È una merda! Porco di... Insomma quindi... Ci vuole... Tempo! Persone giuste! Se poi c'è più persone è ancora meglio che richiamo la trama! Si comparsa, robe varie! I giusti luoghi! Le giuste situazioni! Perché se piove e anche l'ira di Dio non si può fare! Si può fare con la pioggia sarebbe... Sì ma solo alcune cose! Con la pioggia è divertente! Se vuoi bagnarti più delle paromatrici... Io propongo con la pioggia! Se piove lo faccio anche comunque! Ecco! Intanto vedremo insomma! Comunque vi posso predictare... Che sarà ambientato! Che dall'uscita di questo video... Che dovrebbe uscire nel giorno in cui lo pubblichi... Adesso lo stiamo registrando... Cioè... Tra qualche ora... Esagerando domani... Adesso vediamo che giorno sia... Puttani! Lascia! Siamo il 15... Dovrebbe uscire tra il 15 e il 16 febbraio... Uscirà il 20 marzo... Quindi state tranquilli! No! No! No seriamente! Stavolta speriamo di no! Dovrebbe uscire tra oggi e domani... 15 e 16 febbraio... E una volta che sarà uscito... Posso introdurre che nel giro di... Circa una settimana... Una settimana! Un po' più di una settimana... Se non ci vanno male i piani dovrebbe uscire! Due settimane! Se non ci vanno male i piani! Ci andranno male! Ma in una volta che... Ci andranno male! E quindi vi culerete e dovrete aspettare un altro mese! Vacanze di Pasqua dai! Vacanze di Pasqua! Quelle si vanno bene dai! Buon mese! Insomma... Eh beh... Io vi saluto! Io no! Tutti in culi puoi morire! Andate a fare in culo tutti! Ciao! Mando!